La Lucchi del Palamasprone, gremita da oltre 300 sportivi, è stata presentata alla città la squadra del Verona Femminile, che prenderà parte al campionato nazionale di Serie A per il quindicesimo anno consecutivo. Molti i personaggi illustri che non hanno voluto mancare all'appuntamento con le ragazze in maglia giallo-blu. Per l'amministrazione comunale l'assessore allo sport Federico Sboarina, per la Federcalcio il vicepresidente del Comitato Regionale Veneto Cristian Comencini e il coordinatore della delegazione provinciale Carlo Franchi, l'opinionista televisivo e rappresentante dell'asso allenatori Romano Mattè, lo scudettato dell'Ellas Verona Luciano Marangon, l'ex parlamentare Virgilio Asileppi, oltre ad importanti esponenti dell'imprenditoria Veneta. In un clima di grande entusiasmo le scaligere sono state presentate una ad una, mentre sul maxischermo scorrevano le schede delle atlete e le immagini dei primi impegni stagionali. Un nuovo progetto verso il futuro con alle spalle un grande passato. Con questo motto si è aperto l'intervento del vicepresidente Paolo Zanoni, che ha illustrato le linee guida della società, puntando in modo particolare sui valori positivi che la squadra dovrà trasmettere e sul connubio squadra-città di Verona. Applauditissime le due neo giallo-blu, Carolina Pini e Marta Carissimi, chiamate a dare sostanza al centrocampo. Ma l'applausometro è salito anche per il portiere svedese Stefani Hochstrom, per l'italo-brasiliana Dayen da Rocha e per Capitan Gabbiadini, particolarmente ottimista nelle sue dichiarazioni e la stampa. Presenti in sala anche ampie rappresentanze del Cresi Colombo Verona e dell'arcobaleno Bardolino Verona, le due società satellite che costituiscono il serbatoio del settore giovanile scaligero.